per toglierle invece allora è molto importante da sapere e si vede che all'interno della chiusura c'è della gomma e quindi della chiusura c'è una placca in ferro con il buco dove noi ci agganciamo quindi non dobbiamo tirare in su mai ma dobbiamo prendere il più vicino possibile al buco laghetta quindi il laccio e tirare dritto perché il ferro ovviamente dentro lo dobbiamo tirare dritto quindi se noi tiriamo dritti riusciamo a sganciare bene a questo punto che abbiamo slacciato la scarpetta è sempre importante avere un netta piedi perché per toglierle facilmente e per non rovinare alcune parti è molto semplice con netta piedi ci infiliamo dentro la scarpetta tra lo zoccolo la scarpetta e facciamo un filo di leva sia da una parte che dall'altra e tiriamo via la scarpetta da un'altra e tiriamo via la scarpetta